Belluno è entrata a far parte della rete internazionale delle città educative del progetto RICE, la firma del protocollo d'intesa avvenuta fra il sindaco di Belluno Jacopo Massaro, Jean-Pierre Portois, professore merito dell'Università di Mons Belgio e il direttore dell'Università Salesiana di Venezia Nicola Giacopini, promotori del progetto con la collaborazione di numerosi altri partner sul territorio. Nella scuola dell'infanzia Nazareth di Lentiai nel comune di Borgo Valbelluna è andato in scena il primo atto concreto di questa nuova progettualità che rende il capoluogo una delle tante città italiane e internazionali aderenti alla rete. Abbiamo lavorato con il bando periferia e con la rigenerazione urbana per avviare tra le tante opere anche la ristrutturazione della scuola Gabelli e questo progetto è un progetto collegato proprio alla ristrutturazione della scuola Gabelli che è il far entrare la Belluno nel circuito delle città educative d'Europa. Sono alcune città diciamo in tutta Europa dove si è sviluppata una coeducazione che vuol dire sostanzialmente mettere insieme non soltanto le scuole quindi non solo la delega alla scuola dell'educazione ma educarci tutti ed educare quotidianamente mettendo insieme quindi le associazioni, i privati, i privati come cittadini e come diciamo come genitori ovviamente. Credo che sia una grandissima occasione per Belluno che prima è città di bambini adesso diventa città educativa. Nei prossimi tre anni dunque Belluno doterà un approccio etico, pedagogico, politico e sociale per facilitare la crescita individuale e collettiva dei bambini attraverso un modello coeducativo che coinvolge in primis la famiglia, la scuola ma anche l'intera collettività. Uno dei punti importanti è l'importanza dello sviluppo del linguaggio soprattutto nell'infanzia perché le ricerche scientifiche testimoniano che più c'è padronanza del linguaggio più c'è una possibilità di futuro positivo. Nell'istituto di Lentiai gestito dalle suore figlie di San Giuseppe del Caburlotto da qualche mese ormai viene seguito tale approccio educativo con gli oltre 120 bambini presenti.